Allora, qual è il suo nome completo? Laurence Emmanuel James Allianne Proust spiegava troppo per i miei gusti 300 pagine per comunicarci che Couture si scopava a Tatav Sono un po' troppe Congratulazioni Laurence No, è solo un piccolo premio Spero che brinderai alla nostra salute questa sera Salute tesoro Non sono, ti ripeto, un uomo sessuale, Fred Sei frocio? Sei gay? È che non sono fatto per essere un uomo, è diverso Che cosa vuoi che faccia? Dovrei sentirmi in colpa, pensare di essere stata una pessima madre? Me ne fotto! Ho bisogno di svegliarmi accanto a lui Tuo padre non ti accetterà mai come donna Posso accontentarti perché cambierò, cambierò Lo faremo insieme Non ti ho visto arrivare stamattina È una rivolta No signore, è una rivoluzione La nostra generazione può farcela Siamo pronti per questo E il cielo è il limite Da quando ti vesti così? Solo da oggi Facciamo una sorpresa a papà Vengo a casa con te Nulla, nessuno può mettersi tra noi due Tranne te! No, tranne te! Qual cazzo? Tu hai voluto questo Abbiamo provato, ci siamo riusciti Ma non puoi avere tutto Ho scelto di invecchiare nella pelle di una donna Tutte le donne invecchie Sì, ma dopo essere state giovani Hai mai comprato una parrucca per il tuo uomo? Hai mai avuto paura che lo pestassero al sangue? E che non tornasse tutto intero? Hai qualche limpiato? Grazie a tutti!